Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10, l'apertura del telegiornale dedicata alla vicenda raffineria Enigela. Continua nei blocchi alle strade di accesso alla città da parte dei lavoratori dell'indotto dello stabilimento. Sit-in di protesta anche da parte dei dipendenti del diretto. Vediamo. Notte alla ghiaccio per centinaia di operai dell'indotto dello stabilimento Enigela. Continuano infatti i blocchi di accesso alle strade e continueranno anche nelle prossime ore. Si protesta contro la chiusura della raffineria e contro la sua mancata riconversione in green refinery. E questa mattina anche gli operai del diretto si sono fermati. Sit-in dinanzi ai cancelli dello stabilimento si solidarizza con i colleghi dell'indotto. A Zela siamo all'anno zero. Purtroppo dobbiamo dire le cose come stanno e non ce la facciamo più. Sia il diretto in parte, ma il diretto lei mi ci garantisce, ma la cosa più drammatica è l'indotto. L'indotto vive ore drammatiche e vive ore veramente di agonia vera e propria. Non ce la fanno più, sono lavoratori come siamo lavoratori noi del diretto e hanno il diritto di lavorare. Il lavoro è importante. Gela ha dato tanto negli anni. Dopo 50 anni di industrializzazione non può essere trattata in questo modo. È stata vessata ed è stata vessata in modo lento e duraturo, quasi quasi intelligente. Dal governo nazionale, occhio eh, dal governo nazionale che ha messo la firma su quell'accordo. Occhio, stiamo parlando del governo nazionale. E fra l'altro, non ce l'ascondiamo, Renzi è venuto a Gela, ha fatto toccati fuga e se n'è andato. Si è fatto gli accordi che doveva fare e si è andato via. Doveva venire ogni tre mesi a Gela, non è venuto neanche una volta. Come mai? Renzi ti vogliamo a Gela noi. Quando discutiamo tecnicamente di cose che vanno e che non vanno. Anche i nostri colleghi del diretto sono stati, diciamo, costretti, tra virgolette, a andare al nord, a lavorare, o all'estero, o nelle piattaforme. Insomma, come chiaramente si capisce, è un disagio che ci coinvolge, anche se non abbiamo il problema della perdita del posto di lavoro, come ce l'ha l'indotto, che giustamente si trova meno le commesse per poter lavorare, è sempre comunque un grosso problema. C'è una grossa difficoltà per il territorio di Gela e per tutta Gela, perché sono fermi tutte le cose, il commercio, tutte le cose. Sono in crisi profondamente, perché i redditi sicuri vengono dall'assarbelimento. Con una lettera aperta al Premier Renzi si ribadisce che questa è l'avvertenza di una intera città che non vuole morire e si chiedono risposte immediate sul lavoro e sullo sviluppo con la firma dell'accordo di programma tra Stato, Regione, Comune e Forze Sociali che sbloccherebbe gli investimenti e la ripresa produttiva a Gela. Intanto ieri è fallito il tentativo del prefetto di Caltanissetta, Maria Teresa Cucinotta, di riportare l'avvertenza a Gela sul piano del dialogo con le istituzioni, chiedendo ai sindacati la rimozione dei blocchi stradali. Le segreterie provinciali di CGL e Cislewil guardano con attenzione, ma anche con scetticismo, al tavolo di lavoro convocato per le 16 di domani a Palermo dal governatore Crocetta per affrontare la questione dell'impianto Eni. Ma ancora prima del confronto palermitano, i sindacati intendono incontrare il presidente della commissione parlamentare antimafia, Rosi Bindi, che domani dovrebbe essere a Gela per partecipare alla inaugurazione della nuova sede del comitato anti-racket e anti-usura, Gaetano Giordano. A Bindi sarà consegnata una lettera per il premier Renzi, il quale, dicono i dirigenti sindacali, aveva annunciato per Gela la nascita di un pole industriale verde, che non abbiamo mai visto, mentre quello della vecchia chimica, che seppur precario c'era, è stato cancellato. I sindacati chiedono interventi immediati per far partire i cantieri concordati con il protocollo di intesa del 6 novembre del 2014, che avrebbero dovuto realizzare opere per 2,2 miliardi di euro in Sicilia. Sentiamo. Fiumi di parole, tanti incontri, tavoli, manifestazioni di protesta, però alla fine purtroppo i lavori non partono e giustamente i dipendenti dell'indotto soprattutto protestano. In questo momento vediamo solo parole, parole, ma senza concretezza. Chiediamo il rispetto di quell'accordo che permetterebbe di avere un respiro occupazionale, di avere nuovi insediamenti e anche la green potrebbe andare secondo una crescita migliorativa. Volevo anche sottolineare il fatto che c'è un problema anche sull'aspetto upstream. La perdita del prezzo del petrolio farebbe sì che l'azienda gli investimenti li ritarderebbe e questo ci preoccupa ancora di più. Siamo qua in concomitanza a quello sciopero nazionale che abbiamo. Noi lo stiamo caratterizzando su Gela perché quell'investimento di 2,2 miliardi deve essere fatto e bisogna recuperare i ritardi che si sono accumulati affinché possiamo dare tranquillità a quelli che sono i dipendenti del diretto ma soprattutto a quelli dell'indotto perché gli uni salvano gli altri. Se l'indotto è fuori vuol dire che gli investimenti e i lavori non si stanno facendo e questo ci dà perplessità su quello che già l'assetto nazionale che è l'Eni, su quello che gli investimenti totali che dovrebbe fare nel quadriennio li ha abbassati. Vuoi perché ci possa essere il discorso del barile che è a 30 dollari. Però qua c'è un impegno politico che abbiamo sottoscritto al Ministero dove la raffineria è stata chiusa per dare la riconversione a questo sito e questo noi rivendichiamo. Castania, non doveva essere leggera la capitale, anzi l'esempio portante di come si poteva riavviare un'industria e invece non lo è? Partiamo proprio da questo. Il 14 agosto il nostro Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha portato a una riconversione di Gela, stupendoci con un polo green che dovevamo essere contenti dello sviluppo che si stava creando su Gela. Siamo in una fase in cui la riconversione a cui noi crediamo per quanto riguarda la raffineria di Gela ma stiamo vedendo che si stanno verificando delle difficoltà. È venuto a mancare cosa? È venuto a mancare proprio l'apporto dello Stato perché un progetto di riconversione come questo non è stato supportato bene dallo Stato. Ecco perché i lavoratori, in particolar modo dell'indotto, ma anche quelli del diretto a gran voce oggi protestano e riaccendono i riflettori perché automaticamente non si può abbandonare, lo Stato non si può permettere il lusso di abbandonare una città come Gela perché questo crea le condizioni di disagio. Questo è quello che chiediamo. Le forti proteste di operai e semplici cittadini in corso a Gela sono un evidente segnale del disagio sociale ed economico che rischia di travolgere interi territori a causa dell'incertezza sul futuro industriale del gruppo Eni in Italia. Lo dichiara il segretario nazionale dell'UGL chimici Luigi Ulgiati, ribadendo la necessità che Vertici Eni e il governo, in qualità di azionista di controllo, facciano un passo indietro rispettando gli accordi e dando attuazione ai progetti condivisi nel passato a partire dalla riconversione green del petrolchimico di Gela per Andrea Lario, segretario provinciale dell'UGL chimici di Caltanissetta. L'esasperazione dei lavoratori è il risultato dell'ennesima promessa da Marinaio sul rilancio del sito Nisseno. Nonostante il premier Renzi in persona sia venuto la scorsa estate a sostenere il progetto, ad oggi tutto è fermo. Ci aspettiamo, conclude, che la situazione si sblocchi immediatamente. E ieri nei locali della Conf Commercio Ascom di Gela si è svolto un incontro promosso dalle sigle sindacali CGL Cisle Will e rappresentanti delle associazioni datoriali territoriali Conf Commercio Ascom Gela, Conf Esercenti, Casa Artigiani, Conf Artigianato CNA, il Consorzio Gela Centro. I rappresentanti delle tre sigle sindacali hanno relazionato sullo stato di agitazione dei lavoratori dell'indotto e le associazioni presenti hanno congiuntamente manifestato la loro solidarietà alla protesta. Al loro sostegno, infatti, condividendone ampiamente le motivazioni, hanno stabilito di dare vita nelle prossime ore ad una manifestazione di protesta silenziosa, così da rappresentare a tutti i livelli il dramma sociale che la città di Gela sta vivendo a causa del totale disinteresse da parte del Governo nazionale verso la grave crisi economica che sta affliggendo il territorio di Gela in mancanza di risposte concrete da parte delle istituzioni competenti. È stato detto che non si escludono azioni eclatanti. Il sindaco Domenico Messinese solidarizza con i lavoratori e chiede un'azione forte e decisa da parte del Governo centrale. Si rivolge anche ai leader del Movimento 5 Stelle, al leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo. Sentiamo. Le proteste, sindaco, giustamente continuano con i blocchi nelle strade di accesso alla città, questa mattina anche un sitino dinanzi ai concetti della raffineria, perché i lavoratori dell'indotto e del diretto rivendicano solo un aspetto, lavorare. Si sapeva, perché non si può permettere di interrompere dall'oggi al domani, chiudere un'attività produttiva senza pensare allo sviluppo e le ricadute che si hanno nel territorio. Era soltanto una questione di tempo e devo dire che anzi i gialesi sono stati molto pazienti. Io sono con i lavoratori perché il lavoro è dignità e la dignità non può essere tolta a nessuno. È facile far finta di niente, nascondere, mettere la testa sotto la sabbia come uno struzzo e dire che non c'è il problema. Il problema c'è, esiste e i lavoratori non hanno il piacere di stare qua sotto il freddo, ma al loro disagio lo devono dimostrare in qualche modo, in modo molto educato, ma lo devono dimostrare. Il governo centrale deve stare attento perché è l'unico che può risolvere questo problema, chi ha creato lui. Quando parliamo del governo, dunque parliamo dello Stato centrale, parliamo chiaro di Renzi. Renzi, il premio, è venuto a Gela il 14 di agosto dicendo che da Gela partiva una nuova economia basata sull'industria. Da quella data ad oggi di acqua sotto i ponti ne è passata e sostanzialmente non è accaduto nulla. No, praticamente è stato più uno spot quello che è stato fatto dal Premier nazionale perché i problemi ci sono, ci sono tutti e non sono stati sicuramente risolti. Né oggi, tra le altre cose, difficilmente, così come si stanno muovendo, li risolveranno domani. E non è soltanto il Premier Renzi che ha le più grandi responsabilità, ma tutti quanti i nostri rappresentanti nazionali che in realtà fanno finta di nulla. Io vorrei invitare i rappresentanti nazionali a posto di parlare di beca interna e di venire qua e risolvere i problemi dei lavoratori di Gela. È facile andare ad additare e mettersi sopra un piedistallo quando invece i problemi reali sono in mezzo alle persone. Quindi invito tutti, compreso Grillo, a venire qua a Gela a vedere quali sono i problemi e guardare in faccia queste persone che hanno perso lavoro, dignità, futuro per loro e per i loro figli. Se dovessi venire Grillo a Gela per solidarizzare con i lavoratori, è chiaro che porterebbe il simbolo del Movimento 5 Stelle che adesso a lei non le appartiene più. Ma io mi interesso con le ideologie che ho dentro di me e nessuno può togliere. Poi chiunque venga qui per risolvere i problemi di Gela sicuramente è ben accolto e mi troverà a suo fianco. Chiunque invece vuole giocare con i lavoratori di Gela, con la vita dei cittadini gelese, in me incontrerà un nemico in qualsiasi livello, o col simbolo o senza simbolo, o 5 Stelle o qualche altra etichetta che qualcuno vuole mettere. Grillo, dovessi ascoltarci, lei cosa direbbe? Prima di parlare vieni e vediamo di agire, perché le risposte bisogna darle. Parlare può essere forse utile, ma se non si danno delle soluzioni reali sono soltanto parole al vento. Ennuccio Mulè, presidente della sezione gelese dell'Archeoclub, sottolinea che Eni non ha più interesse a rimanere a Gela e la riconversione rimarrà carta straccia e consumo di coloro che hanno preso e vogliono ancora prendere in giro la popolazione, in particolare i lavoratori e gli ex lavoratori. Come andrà a finire adesso? Se lo chiedono in molti. La cosa certa è che adesso si stanno bloccando le strade statali, anche se a Singhiozzo, che è il preludio a un massiccio coinvolgimento di protesta, che non deve vedere solamente chi ha perso il lavoro, ma anche a tutta la cittadinanza. Anzi, è bene che si diano incondizionata solidarietà e presenza a tutti quanti si trovano in questo momento sulle strade. Solidarietà e presenza, non solo per l'occupazione, ma anche e soprattutto per far passare una parola d'ordine, bonifica e chi rompe paga. Questa, si dice Mulè, che potrebbe essere sicura occupazione pluridecennale. Eleni deve pagare per ripristinare le condizioni di salubrità del nostro territorio, che è stato per mezzo secolo pesantemente sconvolto e devastato con la colpevole assenza della politica e di chi fa politica con il lavoro. Tiziana Iozza, vicepresidente dell'Associazione La Polis della Cultura, invita tutte le associazioni del territorio ad unirsi alla protesta dei lavoratori della raffineria di Gela contro la chiusura dello stabilimento. Il processo di bonifica dell'area industriale e l'avvio della riconversione del sito industriale non sono stati avviati, così come era stato stabilito nel protocollo di intesa. Il governo, dice Iozza, intervenga immediatamente per tutelare i diritti dei cittadini gelesi. Nella seduta di ieri del Consiglio Comunale di Gela è stato approvato un atto di indirizzo che impegna l'amministrazione comunale all'avvio di tutte le procedure necessarie per realizzare in città il baratto amministrativo. Questa si legge in una nota del gruppo consigliare pentastellato è una grande conquista per il Movimento 5 Stelle di Gela che ha fortemente voluto la realizzazione del baratto amministrativo. La mozione presentata dal consigliere comunale Guastella nel settembre dello scorso anno è stata approvata con tempestiva trattazione in Consiglio su esplicita richiesta dei consiglieri del Movimento 5 Stelle che hanno chiesto la immediata trattazione della mozione. Di fronte alla crisi occupazionale che soffoca, gela e blocchi stradali che vedono impegnati i lavoratori, il Movimento 5 Stelle crede che serva a dare una risposta concreta sollevando i lavoratori dai problemi economici che ogni giorno li pressano. Con il baratto amministrativo ci sarà una minore pressione fiscale nei confronti dei lavoratori disoccupati e questo darà loro maggiore respiro. Non si tratta, si legge ancora, di una soluzione ma di un passo importante e concreto a sostegno di tutti coloro i quali vivono la crisi occupazionale. Sarà adesso compito dell'amministrazione rendere concreto quanto il Consiglio Comunale ha approvato. Cambiamo argomento. Festa alla Polizia Municipale di Gela per San Sebastiano, patrono dei vigili urbani. I festeggiamenti continueranno nel pomeriggio nella parrocchia del quartiere di Settefarine. Ne sentiamo il comandante Giuseppe Montana. E allora questo è stato veramente il miglior rientro che avessi potuto mai desiderare e pensare perché è stato un rientro di condivisione con il comando di Polizia Municipale ma in generale con l'intera città. La Polizia Municipale è un corpo che per sua natura e per sua ontologia sta sempre in mezzo alla gente e questa festività di San Sebastiano ci consente di condividere con la città questa nostra divisa. Infatti io ho avuto modo di dire poco fa nella cerimonia ufficiale che la nostra non è una manifestazione ma vuole essere esclusivamente una condivisione. Una condivisione con la città che ovviamente non possiamo ricevere nei nostri locali per motivi che comprenderete hanno solo carattere logistico. E allora per questa ragione riceviamo la città per il tramite delle autorità civili e militari. Detto questo voglio dire alla città che noi siamo a servizio della gente. Non siamo per creare problemi o non siamo lì per determinare situazioni tali da creare, ripeto, problemi alla città. Vogliamo semplicemente essere a servizio della città e vogliamo semplicemente far sì che questa nostra divisa sia sempre più amata e rispettata dalla città. Ennesimo incendio di auto a Gela la scorsa notte intorno alle 2. Le fiamme hanno interessato una Mercedes appartenente ad una donna di 49 anni. La vettura era in sosta in via Indovina a 7 farine. Il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo San Francesco di Gela, Giovanna Palazzolo, ha deliberato di fornire i libri di testo delle classi prime della scuola media e ha incomodato d'uso per l'anno scolastico 2016-2017. Alle famiglie che si trovano in difficoltà economiche debitamente documentate attraverso il modello ISEE. È prevista per mercoledì 27 gennaio prossimo alle 10.30 nell'aula magna dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo di Gela la presentazione del libro Verginità rapite di Ismele Selmanai Leba. L'incontro rientra nelle manifestazioni promosse in occasione del giorno della memoria. Un impegno per il futuro, costruire un cammino senza crimini. I saluti iniziali saranno affidati a presidenti del club services e al dirigente scolastico Grazio Di Bartolo. Saranno presenti l'editore del libro Sal Bonfirraro e l'autrice. La lettura dei brani e l'esecuzione con il violino è a cura degli alunni della seconda B del liceo Eschilo di Gela. Saranno esposte opere di Michele Alba e Benedetta Caccamo. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Tra poco restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Ci sarà anche il presidente della Commissione Nazionale Antimafia, Rosi Bindi, alla inaugurazione della nuova sede dell'associazione antiracket Ghetano Giordano Di Gela presieduta da Renzo Caponetti che sorgerà nei locali di Palazzo Guttilla. In corso Vittorio Emanuele 162-168. Appuntamento per domani alle 11. Saranno presenti inoltre Pippo Scandurra, presidente nazionale FAI, Tano Grasso, presidente onorario FAI e Santi Giuffre, commissario straordinario antiracket. La figura di Aldo Moro, uno dei più grandi statisti della storia del nostro paese negli anni 60, è stata analizzata nel corso dell'incontro di formazione sociopolitica che ha svoltosi nella sala del Museo di Ugesano, che ha visto come relatore d'eccezione l'onorevole Pierluigi Castagnetti, collaboratore di Moro, già segretario nazionale del Partito Popolare Italiano. Ma è importante perché viviamo un tempo in cui la democrazia deve essere reinventata. Moro è stato tra i protagonisti dell'Assemblea Costituente, ha inventato il modello di democrazia costituzionale nel nostro paese e quel modello manifesta segni di crisi che sono di tutta evidenza. La generazione attuale ha il compito di rigenerare quel modello, in alcune parti anche di reinventarlo, di tenere conto dei cambiamenti che sono intervenuti a livello globale in primo luogo. Da questo punto di vista, la cultura riformistica di Moro può essere di grande aiuto e soprattutto la sua capacità di visione molto larga. Per fare politica occorre avere strategie lunghe e visioni profonde. Moro era sicuramente un uomo di grandi visioni e oggi la politica purtroppo è prigioniera dell'Ighet Nunc e anche di confini di sovranità che oggi hanno poco senso. Di fronte al mondo globalizzato, ai problemi che sono di fronte a noi, ai processi migratori che stanno definendo degli spostamenti di masse demografiche da una realtà continentale all'altra, di fronte al terrorismo, di fronte alla subordinazione della politica rispetto alla finanza, insomma occorre avere una generosità nel pensare a livelli di sovranità ben più larghi. Quindi sotto questo profilo bisogna che la politica si ridotti appunto di intelligenza del futuro. Adesso ci occupiamo di sport, in particolar modo della sfida di domenica prossima tra Gela e San Cataldese al Presti. In palio la vetta della graduatoria del girone A del torneo di eccellenza. Vediamo. Monta l'attesa per la sfida di domenica prossima del Vincenzo Palesti. Si tratta del big match della quarta giornata di ritorno dal campionato di eccellenza. Il Gela ospiterà la capolista San Cataldese. Le due squadre in gradatoria sono divise da tre punti. I verdi amaranto comandano a quota 38. Il risultato è importantissimo. L'obiettivo dichiarato dei biancazzurri, del tecnico Totò Brucculeri, è uno solo e si chiama vittoria. Così facendo i gelesi conquisterebbero la vetta proprio a pari punti con i nisseni. Ecco perché è stata definita giustamente la partita delle partite. Un treno che la truppa tanto cara al presidente Angelo Tuccio non può farsi scappare. I giorni che stanno anticipando la vigilia della gara sono stati contrassegnati da un clima burrascoso a seguito di un comunicato stampa pubblicato sulla pagina Facebook della San Cataldese in cui la dirigenza lanciava strali e dubbi sulla direzione di gara di domenica scorsa facendo riferimento ad una imposizione voluta da qualcuno. Immediata la replica del Gera che ha investito di quanto accade la Lega Nazionale Direttanti Comitato Regionale Sicilia per le eventuali azioni sul piano sportivo mentre invece sul piano penale il club biancazzurro chiederà l'autorizzazione così come previsto dalle norme vigenti con lo scopo di poter procedere presso l'autorità giudiziaria ordinaria per poter difendere la propria onorabilità sportiva gravemente alesa dalla comunità della San Cataldese. Poi la stessa dirigenza Nissena ha diffuso un comunicato in cui è inteso che dire che non sono mai state fatte accuse rivolte alla società del gelacalcio egregiamente presieduta da Tuccio, persona molto stimata tra i dirigenti verde amaranto. Il comunicato divulgato dopo la partita contro il Mazzara era solo ed esclusivamente riferito al modo molto discutibile, provocatorio e sospettoso che la terna arbitrale ha adottato per dirigere la gara. Nella stessa nota la dirigenza ha invitato tutti a placare gli animi e far in modo che l'incontro di domenica prossima sia una vera e propria festa dello sport. E sarà una festa dello sport, aggiungiamo noi, perché a Gera non è mai accaduto nulla e mai nulla accadrà. Chi sarà più bravo alla fine vincere la partita? Sono aperte le iscrizioni per i nuovi aspiranti volontari e pionieri della pubblica assistenza Procivis di Gela, diretta da Luca Cattuti. I volontari del soccorso si impegnano personalmente in un servizio di solidarietà per la propria comunità. Sono componenti attivi di un'organizzazione integrati in un sistema organizzato come il soccorso sanitario e la protezione civile. Per maggiori informazioni sulle iscrizioni è possibile recarsi presso gli uffici di Via Ossidiana al numero 23 ogni giorno dalle 15.30 alle 20.30 oppure chiamare il numero 0933 9383 12 o ancora inviare una mail all'indirizzo p.a.procivis.it. Sarà possibile iscriversi fino al 31 gennaio. Il corso di formazione pratica e teorico proseguirà poi per 18 mesi. Sono aperte le iscrizioni anche per far parte dell'associazione di volontariato Santa Lucia soccorso di Gela. Per informazioni bisognerà rivolgersi in segreteria in via Ettore Romagnoli numero 78. C'è anche un numero di telefono 349 78 99 796. Siamo allo spettacolo appuntamento col teatro oggi alle 21.30 e domani alle 18 e alle 21.30 all'antidoto di Macchitella a Gela prevista la rappresentazione teatrale Don Chisciotti e Sanciupanza di Turi Giordano. È il Consiglio d'Egitto e invece l'appuntamento teatrale che si terrà all'Eschilo di Gela per sabato 23 gennaio prossimo alle 17.15 e alle 21.15 sul palco Enrico Guarneri per la regia di Guglielmo Ferro. Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al teatro Eschilo di Gela. Protagonisti degli eventi saranno Ernesto Maria Ponte, lasciate libero Lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia. Il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30 prossimo spettacolo con Ernesto Maria Ponte il 17 febbraio prossimo. Continuano anche gli appuntamenti con il grande jazz al teatro comunale Eschilo di Gela. Venerdì 29 gennaio prossimo andrà in scena Fabio Concato. L'inizio degli eventi è previsto per le ore 21. Per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20. Per informazioni 0 933 911 892 oppure 345 58 80 580. È tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione. Arrivederci.